Alex Penna, il presidente dell'associazione Viva Arme, ha organizzato quest'oggi un incontro tra molti associati, molti residenti e il sindaco di Sanremo. Inutile dire che l'argomento principe è The Mall, siamo in un bar di fronte a The Mall. Innanzitutto voi come vedete l'avvento di questo outlet? Noi indubbiamente vediamo nell'outlet un progresso, chiaramente non è solo legato a un nostro discorso, non alla fattispecie, ma a tutta la zona di Valla Armea. E non solo, perché ragionandoci bene sopra e essendo anche a conoscenza di come l'amministrazione ha monitorato questo tipo di avvenimento, sappiamo che comunque è positivo per tutta la città. Perché secondo noi è un target ben definito, il target di The Mall, vale a dire sono clienti che fondamentalmente senza questo outlet non avrebbero ragione di venire a Sanremo. Allora quindi, siccome non è che esistono solo i negozianti di vestiti, ma esistono anche i ristoratori, esistono anche gli albergatori, io penso che sia una grossa risorsa per Sanremo in generale. Poi è chiaro che noi siamo a favore, già da subito, forse siamo stati i primi ad essere a favore come associazione Viva Armea, ma non perché siamo a favore dell'outlet, siamo a favore del progresso di Valla Armea. Infatti noi abbiamo lavorato su un video con Roberto Pechilino che si chiama proprio La Rinascita di Valla Armea, ma non è solo legato all'out, è legato a un discorso generico e quindi noi ci aspettiamo che ci sia poi fondamentalmente un'esplosione di, tra virgolette, benessere in un certo senso rispetto ad oggi. Signor Sindaco, si è parlato di The Mall, della possibilità che possa già aprire nella primavera del 2017, però a lei è stato chiesto anche un qualcosa sulla viabilità, sull'illuminazione, sulla sicurezza e lei ha parlato naturalmente di possibilità, non di libro di sogni. Sì, diciamo che abbiamo parlato delle esigenze dell'Armea, che sono esigenze che comunque da anni ci sono e che dobbiamo sicuramente metterci in mano. Dobbiamo essere realisti, non tanto per la nascita di The Mall che oggi dobbiamo risolvere i problemi, ma al di là di questo progetto, il discorso di viabilità, il discorso di illuminazione, sicurezza, sicurezza intesa come sicurezza stradale, dobbiamo sicuramente metterci in mano e su questo in base anche un attimino alle risorse disponibili e soprattutto alle pianificazioni degli interventi daremo, cercheremo di dare un segnale anche in questa zona.